Benvenuti nel paese della critica letteraria, è un paese che ultimamente non se la passa tanto bene, tant'è vero che spesso si sente parlare della crisi della critica, non è l'unica cosa che nel nostro paese è in crisi e certamente la crisi della critica ha un motivo molto preciso, nel momento in cui la letteratura si fa, nelle grandi case editrici, come un qualsiasi prodotto per cui deve essere venduta il più rapidamente possibile perché poi deve essere sostituita da altra produzione, ecco la critica non serve, non serve qualcuno che si mette a valutare, magari dice che quel romanzo non vale niente, non serve qualcuno che si mette a analizzare, serve semplicemente un momento di richiamo, di reclama per captare l'interesse del lettore e quindi in questa ottica naturalmente al massimo il prodotto letterario viene lanciato sulla base del suo contenuto, di quello di cui parla, non di come parla e quindi la prospettiva formale sembra completamente tramontata. Ecco il critico come mediatore viene saltato e questo fa parte del salto di tante mediazioni nella società odierna, anche per esempio nella politica dove l'organizzazione dei partiti si sostituisce con il leader che va in televisione e parla direttamente agli elettori. È chiaro che questa crisi delle mediazioni è un problema e in particolare anche per la critica letteraria perché si perde quell'aspetto per esempio negativo che la parola critica contiene in se stessa, anche nella lingua comune. Se io dico quello lì mi ha criticato vuol dire che ha parlato male di me, quindi il criticare ha questo aspetto che invece oggi prevalentemente è in disuso. Quindi ecco c'è qualcosa che si perde in questo sistema mercantile della letteratura e del resto bisogna dire che in tutto il dibattito molto interessante sulla critica e l'evoluzione della critica del secolo scorso, del novecento, spesso è successo che le diverse posizioni che si sono confrontate si perdessero, si perdessero qualche cosa, focalizzandosi da una parte e perdevano qualche altro aspetto, come adesso vedremo. I grandi metodi, le grandi metodologie che si sono sviluppate soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, quindi nel secondo dopoguerra, secondo novecento, sono stati dei tentativi di spiegazione. La critica di ispirazione marxista spiegava attraverso la storia, attraverso la lotta di classe, lo strutturalismo, la linea formalista e spiegava attraverso l'organizzazione del linguaggio e la psicoanalisi si spiegava attraverso la biografia dell'autore, in ogni caso prevedendo che il critico ne sapesse di più dell'autore, che non si rendeva conto che stava facendo lotta di classe, che non si rendeva conto che stava organizzando in quel modo il suo linguaggio, che non si rendeva conto, secondo la psicoanalisi, delle pulsioni e appunto dell'inconscio. Ecco, queste scuole di pensiero e di critica, basate sulla spiegazione, sono poi entrate in crisi attorno agli anni settanta, ottanta e del novecento e in particolare è emersa questa corrente che si chiama l'ermeneutica, un termine molto antico che vuol dire interpretazione e in particolare il suo principale rappresentante Gadamer e il suo libro Verità e Metodo. L'ermeneutica entra in polemica con i grandi metodi della spiegazione e sostiene che in realtà è sufficiente la comprensione. Cosa significa come conseguenza e per quanto riguarda la critica, che mentre appunto nel tentativo di spiegare il critico in qualche modo sosteneva di essere più avanti, di arrivare più avanti dell'autore stesso, invece secondo l'ermeneutica è sufficiente la comprensione, la comprensione del testo. L'importante è che noi siamo messi in grado di comprendere il testo. Dopodiché la critica deve essere appunto questa mediatrice che ci agevola nel compito della lettura, soprattutto quando si tratta di testi del passato. Infatti poi la teoria dell'ermeneutica funziona soprattutto a livello della teoria del classico. Il grande classico è quello che ha attraversato il tempo ed è arrivato fino a noi grazie alla tradizione. Quindi non abbiamo bisogno di giudicarlo. L'autorità della tradizione è sufficiente a sancire che quel testo è valido. Ecco che qui già anche in questo caso la funzione giudicante si viene in qualche modo a perdere. E l'altro aspetto appunto che la critica ha ancora un compito appunto di mediazione. Questo compito è essenzialmente la cura del testo. Per cui il grande classico voi lo troverete postillato dalle note che ci spiegano chi sono quei personaggi, poniamo che era come dei Dante, quali sono le date, che cosa c'è in quel momento nella biografia dell'autore e tutti i dati che ci servono per comprendere. Quindi una volta che noi siamo dotati di questa sorta di avvicinamento al testo poi dopo il compito è nostro. Il testo ci parla da solo. Ecco anche in questo caso appunto c'è un'attività da parte della critica ma il giudizio in qualche modo è implicito. E questa posizione poi di difesa del classico comprensibilmente nel nostro paese che ha una straordinaria letteratura del passato, secondo me una delle più grandi tradizioni letterarie, se la può giocare con la Francia, ecco è comprensibile che si sviluppi soprattutto in ambito accademico questo tipo di approccio al testo o anzi in questo caso dovremmo parlare piuttosto di opera. Opera è in qualche modo un termine più diciamo forte che può caratterizzare il grande classico. Ecco uno dei punti che probabilmente ha determinato la crisi della critica è anche questo mito della oggettività della critica. Certo se io riuscissi a fare una critica assolutamente oggettiva avrei sconfitto tutti, nessuno potrebbe dimostrare che ho sbagliato. Ecco l'illusione di fare una critica oggettiva certamente è stata pagata poi con la disillusione appunto nel dibattito dei metodi. Quindi lavorare attraverso un'analisi testuale che smonti il testo ne descriva le parti. Ecco questa è stata un po' l'attività che ha proposto una linea importante che ho già citato che parte dai formalisti russi, dal formalismo russo e arriva poi all'inizio del novecento e arriva poi nel secondo novecento allo strutturalismo francese ma ripassando collateralmente attraverso la critica stilistica. Bene, è un'illusione perché il testo è sempre discutibile, ogni analisi è sempre discutibile, l'analisi è infinita sostanzialmente quindi non possiamo mai dire di aver raggiunto un risultato terminale. però ecco credo che da questa linea rimangano delle cose importanti, per esempio prima di tutto l'affermazione che ciò che è essenziale nella critica letteraria, il vero diciamo terreno operativo della critica letteraria è il linguaggio, quindi non tanto la personalità dell'autore quanto le parole che ha scritto, quindi non tanto l'individuo perché è vero che poi i testi hanno, quando ce l'hanno, un autore scritto sulla copertina che si prende le sue responsabilità, anche legali, ma questo individuo anche quando esprime se stesso, esprime magari racconta quello che ha vissuto o quello che ha pensato utilizzando le parole e utilizza sempre uno strumento che è pubblico, che è sociale, i significati delle parole sono determinati socialmente e quindi questo già ci porta su un allargamento di una sorta di singolarità della letteratura. E poi ecco l'altro elemento che mi sembra ancora importante, l'altro strumento che mi sembra ancora importante, che fu già in primo novecento identificato dai formalisti russi, la nozione di procedimento, quindi non si tratta tanto di inventariare da un punto di vista puramente linguistico le parole, quindi come dire descrivendole dal punto di vista ressicare o grammaticare quello che sia, ma la cosa importante è capire il procedimento, cioè il procedimento è qualche cosa che si evolve, è qualcosa che si trasforma, è qualcosa che si muove. Ecco la domanda è questa, in questo testo che cosa si muove, che cosa si sposta e rispetto a cosa? Rispetto all'assetto normale del linguaggio. Il linguaggio della letteratura è un linguaggio speciale, è un linguaggio diverso e quindi si tratta di capire in che modo si diversifica. Anche nella critica stilistica si parla di questo scarto dalla norma, la differenza con il normale. E questo procedimento noi lo possiamo individuare a vari livelli e a livello lessicale, a livello sintattico, a livello semantico, a livello retorico. Per esempio le vecchie e vecchissime figure della retorica, la metafora in primo piano, possono diventare importanti. Che tipo di metafore usa l'autore? Quali, chiamiamoli campi semantici, vengono mescolati attraverso la metafora? Tra l'altro, metafora significa esattamente metafora in spostare, quindi questo aspetto del movimento interno al testo. Naturalmente poi, una volta che noi abbiamo ricavato i dati di queste mutazioni, non è che abbiamo risolto tutto. Anche qui ecco un altro punto in cui questo metodo può entrare in crisi, perché si tratta di capire che collegamenti ci sono tra i diversi livelli e quindi vedere l'aspetto dei significanti, che sono le sonorità del linguaggio. Spesso, per esempio, la poesia viene paragonata a una musica, c'è una musicalità nel linguaggio della poesia e quindi i significanti. Oppure ancora i significati, le metafore sono esattamente questi spostamenti di significati. quando appunto si usa una parola per indicare un'altra cosa. Ma non basta ancora, perché poi bisognerebbe arrivare al senso, al senso complessivo del testo che abbiamo sotto mano e sotto gli occhi. Quindi, ecco qui, certamente, poi la critica è portata a, in fondo, a superare in qualche modo lo stesso terreno squisitamente linguistico, da cui pure è importante partire. Grazie. E' vero che il testo letterario, soprattutto in poesia, può anche arrivare a muoversi un po' troppo ed arrivare a dei punti di poca comprensibilità, di scarsa comprensibilità, di oscurità, anche si dice, o comunque di ambiguità del suo significato. Questo non c'è bisogno di aspettare le avanguardie del Novecento, c'è già nell'Ottocento Mallarmè. Nel nostro Novecento potremmo, tanto per prendere un esempio, citare Ungaretti, che è un poeta che spero abbiate conosciuto nel percorso scolastico, Ungaretti, per esempio, questi versi, le mani del pastore erano un vetro levigato di fiocca febbre. Di fronte a questa immagine, certamente ci possiamo domandare, ma insomma, un pastore con le mani di vetro, com'è possibile questa febbre che leviga le mani? Di questi tempi faremmo un tampone al pastore, ma ecco, indubbiamente in questi casi ci è richiesto un lavoro interpretativo. Dobbiamo spiegare come mai queste figure che immediatamente sembrano fuori della comunicazione ordinaria. Bene, tuttavia, ecco questo, la linea strutturalista, stilistica, hanno fatto il loro meglio per andare appunto a spiegare il testo complesso, soprattutto della poesia, e si sono poi trovate in una sorta di vicolo cieco quando si è passati, nell'ultima parte del Novecento, dal post-strutturalismo, per esempio di un filosofo atipico, antifilosofico, come il francese Jacques Derrida, e poi negli Stati Uniti, questo è un critico di origine belga, Paul De Man, che ha diffuso il cosiddetto decostruzionismo. Ecco, la decostruzione. Che differenza c'è tra decostruzione, analisi del testo, la stessa critica che in fondo è una pratica di smontaggio? Perché dobbiamo, per capire qualcosa di un testo, dobbiamo certamente dividere le sue parti. Che differenza c'è? In alcuni aspetti siamo un po' all'opposto del mito dell'oggettività strutturalista, perché il decostruzionismo parte dall'idea che il linguaggio è sempre ambiguo. Il significato, non possiamo mai stringerlo con certezza, ha sempre un altro risvolto. Per cui, invece di arrivare all'oggettività, col decostruzionismo noi arriviamo a una sorta di dubbio generalizzato. Sappiamo, se vogliamo essere decostruzionisti, che non arriveremo mai a nessun risultato. Questo è a partire appunto da quest'idea della non riducibilità del linguaggio che rimane, per usare un termine derridiano, sostanzialmente indecidibile. Un esempio di questa teoria potrebbe basarsi su quel fenomeno linguistico che è l'ironia. Io dico una cosa per dire il suo opposto, che bella giornata e fuori piove. Allora, se questo è possibile, se io posso usare la stessa parola per dire un significato e il suo contrario, chi mi garantisce che tutto il linguaggio non sia ironico? Quindi salta sostanzialmente l'elemento comunicativo del linguaggio. E la pratica critica del decostruzionismo consiste nel fatto che anche dove i significati ci sembrano chiari, il critico decostruzionista va a trovare i punti ciechi, i punti neri, i buchi neri in cui il significato invece sprofonda e ce lo rende sostanzialmente insicuro. Più che spiegarci il testo, ci decostruisce, ci distrugge le possibili interpretazioni che ce lo farebbero acchiappare sostanzialmente. La preda del senso ci sfugge sempre dalle mani a causa appunto della pratica decostruzionista. Ora, questa è diventata anche una moda negli Stati Uniti e effettivamente ha prodotto delle letture, delle analisi assolutamente raffinatissime perché appunto va a scavare dentro ai meandri del testo. Però, nello stesso tempo, è un po' il vicolo cieco dell'analisi testuale. Perché fare un'analisi testuale se poi so già in partenza che arriverò e che dovrò arrivare ad un risultato zero? Chi mi fa fare questa fatica? Quindi, certamente lì è un po' uno dei punti in cui l'analisi testuale si è insabbiata e spesso per reazione, soprattutto nel nostro paese dove la decostruzione si è diffusa poco, per reazione si è passati invece a un approccio che si basa sul terreno sicuro. Il terreno sicuro che noi abbiamo nell'analizzare e nel guardare in generale la letteratura sono i dati. Quali sono i dati? L'autore, chi era, quando è nato, quando è morto, la data quando ha scritto quel testo, quando l'ha pubblicato, se l'ha riscritto, che cosa ha cambiato. Ecco, questi dati, questa possiamo dire si è sviluppata, questa ripresa, che già era nell'ottocento il positivismo, è una sorta di critica erudita attorno al testo. Bisogna sapere tutto. E questo naturalmente, indubbiamente servono i dati, come studenti voi li dovete sapere. Però possiamo anche arrivare a un punto in cui il critico sa tutto attorno al testo, quanti capelli erano rimasti in testa, all'autore e però magari non capisce niente. Allora, uno dei punti fermi a cui indubbiamente ci si può aggrappare è indubbiamente l'autore, come si dice, l'intenzione dell'autore, quello che l'autore voleva dire e che appunto ha cercato di comunicarci. Però su questo c'è stato un grande dibattito appunto tra chi sostanzialmente diceva che il critico doveva attenersi all'intenzione dell'autore e che invece diceva che la responsabilità del critico sta nell'andare oltre l'intenzione dell'autore e che quello che l'autore ci ha dichiarato nei suoi diari, nelle sue lettere, nei suoi scritti di poetica naturalmente, ecco quello che l'autore ci ha dichiarato è una delle interpretazioni tra le altre, quindi il critico può anche smentire l'intenzione dell'autore. Questo dibattito, possiamo dire che è ancora in corso, non finirà mai probabilmente e ha dato anche dei risultati interessanti, però ecco, la prima obiezione che viene da fare a questo principio dell'intenzione dell'autore è che esistono dei casi in cui noi non conosciamo chi è l'autore. Quindi, se non sappiamo chi l'autore, non possiamo discutere sulla sua intenzione. Ma quello più recente è il caso della Ferrante, per dirne uno, ma ci sono anche dei dibattiti ancora più importanti, ad esempio su chi sia il vero autore delle opere attribuite a Shakespeare, che voi capite quanto questo discorso diventi importante da risolvere. Allora, ci sono questi casi, ci sono anche altri casi curiosi. Voi seguite il modulo della Professoressa Medaglia, la Professoressa Medaglia si è occupata, per esempio, in un suo libro dei testi scritti a quattro mani. Allora, lì l'idea che appunto c'è dietro un individuo che ci trasmette le sue esperienze e i suoi pensieri, le sue emozioni, dire sì, ma se sono due, se sono più di due, chi è? Allora, dove sono l'interiorità? Quale interiorità ci viene trasmessa? Quindi, ecco, questi, voi direte, sono dei casi estremi, ovviamente sono dei casi estremi. L'autore spesso ci è noto, spesso dice molte cose, quindi ci dà molte informazioni che sono indubbiamente importanti, ne dobbiamo tenere conto. A me è capitato però poi anche di conoscere autori che, dopo che il critico aveva spiegato il loro testo, dicevano «Ah, che bello! Io non ci avevo pensato!». Quindi erano contenti che poi l'analisi fosse andata al di là dell'intenzione autoriale. Bene, nel dibattito del novecento non c'è dubbio che la corrente che si è più avvicinata alla figura dell'autore sia stata la psicoanalisi, la critica psicoanalitica, l'applicazione della psicoanalisi alla letteratura, possiamo dire forse più esattamente. E perché allora l'autore, la biografia, i diari, questi dati qui, perché certamente la psicoanalisi nasce come cura dei disagi mentali e quindi ha a che fare con dei pazienti. La cosa più simile al paziente è l'autore. Naturalmente qui la psicoanalisi si è sempre mossa, anche Freud, il padre della psicoanalisi, si è mosso con grande cautela perché assimilare uno scrittore magari grande ad un malato mentale, diciamo pure un disagiato mentale, ecco, voleva dire magari metterlo in cattiva luce. Però ecco, gli studenti della psicoanalisi hanno portato da letture molto profonde. E a partire, ecco, intanto, anche qui senza interesse per la valutazione, badate appunto la critica psicoanalitica è una critica che spiega, spiega perché in base a quali traumi, magari infantili, l'autore ha scritto quello che ha scritto. Quindi è una critica esplicativa e non ha intenzione di emettere giudizi di valore, ecco, ma sicuramente sostiene che l'analista, quindi lo psicoanalista in veste di critico, ne sa più dell'autore. In generale la psicoanalisi sostiene che noi non sappiamo quello che facciamo perché interviene l'inconscio. Allora l'idea che c'è l'inconscio, pure individuale come il Freud o collettivo come il Jung, ecco, certamente consente in quel caso al critico di andare oltre le intenzioni dell'autore, anzi in qualche modo presuppone che l'analisi dell'inconscio debba venire da un'altra persona. Chi subisce, ecco, questi ritorni del rimosso, appunto, tutta la nuova metà della psicoanalisi, le sue nevrosi, eccetera, non se ne può rendere conto se non quando dialoga, si rispecchia nell'analista. Così dal punto di vista critico l'analista scopre questa sorta di spinta segreta, spinta nascosta, che è l'inconscio. Per chiudere il discorso sull'autore, però, bisogna ancora ricordare delle correnti importanti che sono sorte nel recente periodo, si sono imposte nel recente periodo, e sono quelle della critica femminista e della critica postcoloniale. Sono delle correnti, si capisce subito, legate a questi movimenti di emancipazione, a questa richiesta di riconoscimento, di parità sociale importantissima, che fa parte ormai delle battaglie culturali e anche politiche del mondo in cui viviamo. Quindi, certamente qui ci sono queste tensioni culturali importanti e diventa fondamentale per entrambi i versanti, sia che si parli di genere, sia che si parli di razza, diventa assolutamente importante l'autore. L'autore è fondamentale per la critica femminista, perché deve essere naturalmente una donna, mentre la critica postcoloniale deve essere un migrante, deve essere un autore proveniente dal mondo che si è liberato del colonialismo. Ecco, quindi in questi casi, anche in questi casi, la valutazione non è più una valutazione intrinseca del linguaggio, o come poi dobbiamo ancora arrivare a questa questione di giudizio estetico. La valutazione è culturale, l'importanza culturale è di riconoscere, di accogliere questa produzione che viene da versanti ritenuti a torto secondari. La rivendicazione del femminismo nasce anche, soprattutto a Virginia Woolf, quando appunto si parla della questione per cui le scrittrici sono state penalizzate in quanto donne. Ecco, quindi qui l'autore è importante, semmai le minuzie del testo, quelle che metteva in luce l'analisi del linguaggio, passano in qualche modo in secondo piano. Dunque, accennavo alla questione della valutazione, perché abbiamo visto che spesso i metodi la danno un po' per scontata, oppure non la discutono fino in fondo. Mentre appunto la valutazione sembra essere connaturata alla critica, che deriva dal greco krinen, che significa setacciare e quindi valutare, giudicare. Ecco, sul giudizio però naturalmente la questione è aperta. Oggi spesso si pensa alla crisi della critica esattamente come mancanza di figure che possano darci un adeguato orientamento attraverso il loro giudizio. Non c'è il grande critico, non c'è più il grande critico e non c'è più l'autorità, perché il grande critico è quello che magari ha una posizione istituzionale tale che può emettere i giudizi di valore. Ecco, quindi questo spesso si sottintende quando si parla di crisi della critica. E questa figura valutativa nella tradizione esprimeva un giudizio di valore estetico. E possiamo dire anche un giudizio di gusto. Naturalmente dobbiamo distinguere tra il mi piace e non mi piace, che è un giudizio che oggi circola tantissimo anche in rete internet, che è un giudizio soggettivo. Mi piace, nessuno ti può dire che non è vero. E invece il giudizio estetico che afferma è bello o non è bello. In questo caso c'è una pretesa, quando lo dico che è bello oppure brutto, o viceversa. Ecco, c'è una pretesa in qualche modo di oggettività. Poi naturalmente l'oggettività non c'è mai, c'è una contesa, c'è un conflitto delle valutazioni. Tra l'altro, ecco, anche sulla valutazione estetica. Ci sono modalità diverse, le possiamo vedere attraverso due grandi campioni della valutazione, situati ai due estremi del Novecento. All'inizio del Novecento il nostro Benedetto Croce e alla fine del Novecento l'americano, lo statunitense Harold Bloom, autore di un libro, Il Canone Occidentale, in cui stabilisce quali sono i grandi autori. Ecco, se noi confrontiamo questi due autori, entrambi difensori, in un certo senso, del valore estetico e quindi in qualche modo di una lunga tradizione di valutazione estetica. Vediamo però che hanno delle modalità sostanzialmente diverse, perché Croce vuole distinguere, lui dice poesia e non poesia, poesia è l'equivalente del valore alto, non poesia sarebbe sostanzialmente brutto, bene, poesia e non poesia, le vuole distinguere all'interno del testo. Pochissimi autori, forse solo a Riavosto, sfuggono a questa sorta di discrimine che Croce stabilisce su quello che è essenziale e quello che invece poteva anche non essere scritto. La struttura, anche a proposito di Dante, dice il muraglione in cui nascono i fiori. Allora sì, muraglione, fondo, da un punto di vista estetico, che ci importa? E quindi Croce va dentro a separare l'alto e il basso, mentre Harold Bloom fa una sorta di classifica degli autori, Shakespeare al primo posto, l'alto al secondo, ecco i grandi autori del canone occidentale, i grandi autori della nostra tradizione letteraria occidentale appunto, europea, americana e nordamericana sostanzialmente. Ecco, quindi ci sono anche queste modalità diverse nell'espressione del giudizio estetico. Ora, e su questo adesso poi vedremo, ci sono altri tipi proprio di giudizio, ma soprattutto quello che mi preme sottolineare è appunto questa presunta oggettività del giudizio estetico, la sicumera con cui questi critici stabiliscono i valori, con questa formula le apodittiche, sostanzialmente affermando che la loro valutazione è quella giusta e noi non possiamo fare altro che sostanzialmente seguire le linee di questi maestri. Ecco, spesso questo viene fatto, non dico in questi due, ma insomma in un certo tipo di critica sicuramente troverete questi giudizi affermativi fatti sulla base di termini, per esempio stupendo, meraviglioso, eccetera, eccetera, e termini che non vengono motivati. Quindi, attenzione, seguite sempre una critica che accanto ai suoi giudizi porti una motivazione, vi spieghi perché quel testo è bello, perché quel testo è valido e possibilmente vi enunci i criteri in base ai quali decide che quel testo è bello oppure no. Quindi, appunto, una sorta di trasparenza nella valutazione, perché altrimenti non resta che l'ipsedixit, l'ha detto lui, e quindi dobbiamo per forza accodarci al giudizio del grande critico. E ultimamente, ecco, ci sono state anche delle nuove correnti, qui possiamo dire che addirittura scavalchiamo il Novecento, proveniente anche questa dagli Stati Uniti, perché detta un po' gli Stati Uniti, un po' le mode, che si sono ispirate alle neuroscienze per andare a capire in realtà che cosa succede nelle nostre valutazioni di lettori. E in questo caso, quindi, invece di esserci un critico grande lettore, c'è un critico che sostanzialmente, statisticamente, si prova a vedere su quali cellule cerebrali poi avvengono i giudizi dei lettori. E quindi, certamente, questa corrente si colloca a livello della lettura ingenua e quindi propone come elementi portanti l'empatia e l'emozione, che oggi sono estremamente diffuse nell'approccio alla letteratura. In questi casi, certamente, da un punto di vista, in qualche modo sociologico, possiamo avere dei risultati interessanti, però ecco, il rischio è che la critica abbia poi poco campo. Poco campo perché l'empatia e l'emozione sono immediate, sono la nostra reazione immediata. Ma critica significa rilettura. Non si può fare critica senza rileggere. Quindi, la rilettura è quella che ci porta a domandarci il perché di quelle prime emozioni, di quel primo comportamento di immedesimazione del testo e può anche portarci, quindi a una presa di distanza e quindi a rivedere la nostra prima valutazione. Le valutazioni non sono mai stabili una volta per tutte. Abbiamo parlato del giudizio, del giudizio critico, ma il giudizio non necessariamente deve essere per forza un giudizio estetico, è bello o non è bello. Può anche essere un giudizio etico, per esempio, e in questi tempi spesso la critica è andata verso questa valutazione morale della letteratura. Abbiamo già citato femminismo, postcolonialismo e potremmo riferirci in generale agli studi culturali che si sono sviluppati negli Stati Uniti, i cultural studies, e in questo caso la produzione letteraria insieme a una varia produzione culturale, in questo caso la cultura è la C minuscola, la cultura è ciò che noi assorbiamo fin dall'infanzia, i cartoni animati per dire, ecco appunto, il cinema è tutta la produzione dell'immaginario collettivo. E quindi ecco l'esplorazione ormai di queste diverse culture in un mondo che è diventato multiculturale. Certo, se si porta all'estremo questa idea del pluralismo delle culture, politicamente corretto per dire, ecco portate alle stime conseguenze, quasi la critica viene espulsa perché, come mi permetto di andare a mettere in naso una cultura di un altro e a giudicarla. Quindi qui si può arrivare ad una sorta di impasse della critica. Però ecco, non c'è dubbio che nella prospettiva della critica letteraria, insieme, certo all'idea di un'analisi del testo più approfondita possibile, ci sia anche quella di un allargamento della prospettiva. Potremmo dire nessun testo è un'isola. Mi posso sprofondare in un singolo testo, però poi devo tenere presente comunque le altre opere quello che si scriveva ai suoi tempi, la società in cui ha vissuto. Quindi ecco quest'opera di contestualizzazione che oggi è portata avanti anche in particolare, con particolare espansione, dalle letterature comparate perché le tradizioni nazionali sono sempre porose, hanno rapporti, hanno rapporti plurimi, oggi nella globalizzazione indubbiamente, ma addirittura nel passato. Quindi anche nel passato ci sono degli impresti incredibili che attraversano le frontiere. Quindi contestualizzare il testo. Ora, la contestualizzazione soprattutto sul piano della storia è stata appannaggio di una tendenza, oggi molto indiscredito, che è quella della critica di ispirazione marxista negli anni trenta e poi nel secondo dopoguerra. Ecco oggi indiscredito il marxismo, nessuno ne parla più. Io sono ancora affezionato a questa linea di tendenza che indubbiamente ha posto e poneva l'accento sul rapporto della letteratura, che in particolare la poesia è reputata, il regno della pace. Ecco il rapporto però di questo regno della pace con i conflitti della storia. E quale è stato il limite, forse, tra i limiti, insomma, di questa tradizione marxista è indubbiamente una quota di determinismo perché a volte era sufficiente vedere cosa è successo in quel periodo, quello che è successo in quel periodo spiega come è stato scritto quel testo, come è stata scritta quell'opera. Quindi un'operazione appunto un po' schematica in cui poi si perdono le differenze anche tra autori che magari convivono nello stesso periodo storico ma che sono profondamente diversi. immaginate, che ne so, manzoni e leopardi, dice sì, salvano nello stesso periodo però le loro soluzioni sono molto diverse. Ecco, e questa poi era una critica soprattutto genetica, e genetica in che senso? Che va a vedere le origini, da dove deriva, un po' come la psicanalisi. La psicanalisi dice l'origine sta nei traumi infantili, il complesso di Edipo e quant'altro. Il marxismo dice l'origine sta nella lotta di classe di quel periodo storico. Però poi appunto c'è da valutare il percorso sono delle opere che arrivano fino a noi. Quindi l'origine forse non è sufficiente a spiegare cosa oggi ci interessa nella lettura di quell'autore. Allora forse, indubbiamente all'interno al critica marxista c'è da fare una cernita. Per esempio noi abbiamo questo rappresentante importante che è Gramsci. Gramsci non vuole applicare un giudizio politico immediato alla letteratura e quindi crea questa sorta di momento intermedio che è il giudizio culturale. Tra l'altro appunto rientrando, anticipando molto il discorso degli studi culturali. Ecco il valore culturale che è diverso da quello politico ma che ha conseguenze politiche. Quindi ovviamente una certa cultura, l'egemonia dice Gramsci sul senso comune, poi dopo può facilitare certe decisioni, certe azioni della politica. Poi in particolare in questa tendenza i non ortodossi, queste figure extravaganti, vicine, lontane più o meno dal filone centrale del marxismo, Walter Benjamin e Michael Bakhtin, uno in Germania, l'altro in Russia, più o meno nella stessa epoca, sono stati due autori molto significativi, infatti oggi poi vengono citati un po' dappertutto nel mondo. Accenno soltanto a due aspetti, del primo di Walter Benjamin e in particolare questa idea della proiezione verso il futuro, quindi l'epoca storica e il punto di partenza di un'opera che poi viaggia nel tempo, viaggia nel tempo alla ricerca del suo momento della conoscibilità. Cioè un momento storico in cui noi capiamo che quel testo è fondamentale, mentre magari nella sua epoca era rimasto in ombra, era stato emarginato. Possiamo pensare a un poeta come Leopardi che certo nella sua epoca è isolato, poco considerato e poi dopo invece per noi diventa forse il più importante autore, fondante della nostra letteratura. E da parte invece di Michael Bakhtin, questa idea che rispetta i formalisti del suo tempo, che puntavano ad un'analisi dell'enunciato, cioè sostanzialmente il testo era visto come un messaggio cifrato che noi dobbiamo decifrare. Bakhtin dice, oltre all'enunciato però è fondamentale renunciazione. Cioè c'è, se noi non consideriamo l'autore, non solo l'autore come un'interiorità che si è espressa, ma contro chi ha scritto quel testo, in quale contesto, chi si riferiva, appunto come quando noi parliamo ad un'altra persona parliamo in un certo modo perché ci sono determinati rapporti tra di noi. Per cui se si ignora il momento dell'enunciazione non si capisce esattamente che cosa, ecco, quali significazioni si sprigionano dalla letteratura. Da quanto abbiamo visto si sarà capito che il manuale della critica letteraria non è come il manuale per l'uso del computer, non vi insegna come dovete per forza fare la critica letteraria. È un panorama, è un ventaglio di opzioni e appunto di un dibattito, una discussione peraltro, quindi in cui bisogna orientarsi e fare le proprie scelte. Se poi volete sapere come personalmente faccio, ho fatto in vari anni la critica letteraria, bene, io di recente per il mio blog ho scelto questo titolo, la critica integrale. Un po' di pubblicità, questo è l'indirizzo per chi volesse consultarlo. Con critica integrale significa appunto scendere ai minimi particolari dell'analisi testuale, magari una parola, una metafora, un suono addirittura e invece dall'altra parte andare alle questioni generali, perché poi la letteratura ci interessa se ci fa riflettere delle questioni generali. Potete ottenere insieme queste prospettive micro e macro, e micro e macro ottica nella visuale del testo. E poi, ecco, personalmente non è che mi sottraggo le valutazioni, penso che criticare sia sempre un valutare. Però, oltre a quello che avevo detto, che bisogna sempre enunciare i criteri, essere trasparenti, mai essere autoritari, con dei di diktat. Questo lo dico io e quindi voi dovete pensarla così. Questo mai. Ma piuttosto andare verso una sorta di valutazione implicita in forma, potremmo dire, di mappatura, di posizionamento dell'autore. E mi spiego meglio. Immaginiamo, per esempio, prendiamo D'Annunzio, ecco, questo autore forse avete sentito parlare, eh, a discutere anche la sua posizione politica. Benissimo. Allora, non si tratta di dire D'Annunzio è brutto, eh, perché poi naturalmente ha grandi capacità poetiche, suggestive, un suono, eh, pioggia nel pineto, eh, straordinario, bene. Quindi, ma questo è il punto. Allora, però cosa mi interessa allora, eh? Neanche poi le sue scelte politiche come uomo, eh, anche questo non incide necessariamente su quello che ha scritto. Allora, prendere il testo, D'Annunziano, e posizionarlo. Ecco, vedere che funzione assolve nel sistema letterario tra otto e novecento, e vedere anche come poi si dispone attorno a quest'autore, che ha una grande influenza in quel periodo, e tutte le reazioni che si sviluppano, eh, i grebuscolari, l'attraversamento dell'Annunzio nei grebuscolari, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo, credo sia meglio questa, questo posizionamento. E poi, e poi, come interrogare l'autore, ecco, perché appunto noi poi, la critica dipende dal modo con cui noi andiamo a interrogare il testo. Ecco, interrogare l'autore non tanto a quello che voleva dire, come si usa a fare. Quello che voleva dire, l'autore l'ha detto, ma su quello che voleva fare, cioè appunto che idea ha di letteratura o di poesia o di narrativa, per cui che cosa cerca di fare con la letteratura, no? E poi che cosa vuole che noi facciamo? Vuole che ci mettiamo così a sognare? Vuole farci saltare sulla sedia? Una volta Kafka ha scritto che un testo deve essere come un'ascia che ci va a spaccare la testa, è un po' esagerato. D'accordo, però, ecco, che cosa vuole che noi facciamo? Che reazioni ci richiede? E poi, che cosa vuole farci fare? Per esempio, un testo commovente ci vuole far piangere, un testo comico ci vuole far ridere. Ecco, appunto, cosa vuole farci fare? C'è differenza, appunto. E quindi sostanzialmente, personalmente sostengo che tutti i testi abbiano un valore dimostrativo, ci vogliono dimostrare, dimostrare qualcosa. E la critica, a mio parere, consiste nell'andare a capire che cosa fondamentalmente ci vogliono dimostrare. Questo è un po', a mio parere, la linea dell'interpretazione, perché appunto si tratta certamente di interpretare i testi, però bisogna decidere anche come interpretarli. Bene, sono convinto che la critica letteraria sia sempre un esercizio utile, perché mette in azione, se noi la svolgiamo appunto in questi modi, le nostre celluline grigie, come le chiama quell'investigatore dei gialli di Agatha Christie, le celluline grigie, e che faccia parte, peraltro, di una criticità più ampia. Parliamo di critica letteraria, ma noi siamo sempre chiamati a esercitare la critica rispetto a tante produzioni di immaginario, per cui appunto siamo immersi dentro la fiction e siamo immersi dentro al discorso della propaganda politica, e quindi certamente siamo chiamati a esercitare la critica. È opportuno essere critici, conviene essere critici, per cui entrate dentro questo mondo un po' problematico, cercate di orientarvi e di utilizzare appunto anche al di fuori della letteratura questo tipo di impostazione. Insomma, in pratica, è un po' di sano illuminismo, ragazzi. Vi ringrazio per l'ascolto, con tantissimi auguri. Buona fortuna.